Resta stabile la curva del contagio nel Vesuviano, dove, dalla giornata di ieri, così come tutto il territorio regionale, vige la zona arancione. A Torre del Greco, nel fine settimana si sono registrate 45 guarigioni al Covid-19, attestati in oltre 55 nuovi positivi al virus, tutti posti in isolamento domiciliare. Registrato un decesso nella giornata di sabato. Si tratta di un soggetto classe 1924. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagi dal nuovo coronavirus nella città del Corallo. Sono 734 gli attualmente positivi, di cui 26 sotto regime ospedaliero, 1.392 guariti e 46 decessi. 52 nuovi casi di contagio a Castellammare di Stabia registrati durante il weekend, di cui 6 presentano sintomi lievi della malattia. Tra i nuovi positivi, 6 di età compresa tra i 5 e i 17 anni. 12, invece, gli stabesi guariti. In totale sono 1.527 i cittadini tuttora positivi. I dati comunicati dall'Asla, fa sapere il sindaco della città di Ercolano, Ciro Buonaiuto, fanno registrare 19 nuovi con cittadini positivi e 21 nuovi guariti. Su un totale di 8.840 tamponi effettuati sui cittadini dal 1 ottobre, i positivi attualmente sono 687, due in meno rispetto ai dati di venerdì, e il numero di guariti sale al 1.019. Dati stabili anche nel comune di Dora Annunziata, che fa registrare nuovi 50 casi e 37 guariti nelle ultime 48 ore. Purtroppo siamo costretti a piangere altri due nostri concittadini deceduti a causa del Covid, afferma il sindaco Vincenzo Ascione. Uno di questi è l'ex dipendente comunale Andrea Merluzzo, andato in pensione da pochissimo tempo. Nell'ultima settimana a San Giorgio a Cremano sono stati effettuati 571 tamponi, di cui solo 47 positivi, con una media di test effettuati dell'8,23%. Ad annunciarlo è il primo cittadino Giorgio Zinno, nel corso della diretta Facebook di venerdì. Il sindaco, a proposito del calo del numero totale dei tamponi, aggiunge, diminuiscono i tamponi perché meno persone avvertono i sintomi, dati nel complesso di miglioramento rispetto alle scorse settimane. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS Grazie. Grazie.